qui abbiamo una cabina telefonica sopravvissuta è la cabina del diavolo questa forse non la tolgono neanche più perchè forse qualcuno la usa e allora la tengono non so in che maniera la usino perchè sembra che ci abbiano vomitato addosso vediamo l'interno secondo me devono essere arrivati dei colombi che sono rimasti dentro c'ha gli schitti chi è che usa una cabina però c'è l'elenco 2012-2003 ci sono rimasti qualche anno indietro però sarebbe interessante fare una telefonata sulla cabina del genere che poi sembra anche spenta ma c'è anche il ciuffetto qua c'è anche i capelli esatto è una cabina viva questa che sopravviva dai terremoti sotto abbiamo le patine bianche del del 45 del boh non riesco a vedere ah no no questo è nuovo 2015-2016 perché pensano che magari uno voglia telefonare su una cabina vediamo il cugino che prende testimonianze fotografiche però guarda no guarda guarda hanno fatto anche un'opera da latte bellissimo ciao fotografi fotografi il telefono e poi si apportano il telefono schizzato è un po' di più è un po' di più